Colto in flagranza con la cannabis pronta allo spaccio. Nell'approssimarsi della stagione estiva, che vede un notevole incremento delle presenze nelle rinomate zone di villeggiatura dell'Appennino Abruzzese, sono stati aumentati i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, con particolare riguardo al contrasto del traffico di droga. Nella serata di ieri le attenzioni dei militari della locale stazione sono concentrate nei confronti di un uomo 36enne controllato in strada a bordo del proprio autoveicolo dalla perquisizione personale veicolare sono stati trovati alcuni grammi di stupefacente del tipo marijuana suddivisa in singoli confezioni. Le successive operazioni di perquisizione stesse al domicilio dell'uomo, individuato e raggiunto poco dopo, hanno permesso di rinvenire altro stupefacente della stessa tipologia per complessivi 100 grammi circa. La marijuana, tutta suddivisa in singoli pezzi pronti alla vendita al dettaglio e starà sequestrata insieme a diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga, gli elementi di prova raccolti nei confronti del fermato hanno portato i militari a formalizzare la denuncia in stato di arresto per detenzione di stupefacente fini di spaccio. Il 36enne è stato quindi ristretto e domiciliare in attesa dell'udienza di convalina.